Le mie caratteristiche sono comunque offensive, mi piace giocare davanti, svariare soprattutto il lato offensivo. Sono un giocatore a cui piace fare uno contro uno, mettere assist, andare al tiro, però posso ricoprire anche il ruolo di centrocampista, l'ho fatto varie volte e quindi diciamo che queste sono le mie caratteristiche. È nata dopo che il Novara ci ha dato il risultato del Tarre, non eravamo ammessi, appena ho sentito la possibilità di venire qua, tramite anche il mister Guidi sono venuto e sono contento di essere qua. Io il mister lo conosco fin da quando ero ragazzino e mi ha allenato alla Fiorentina e comunque essendo un modulo e un modo di giocare offensivo mi aiuta nelle mie caratteristiche e quindi spero di rendere al meglio in campo. Potrei giocare sia a destra che a sinistra, ho ricoperto anche il ruolo di mezzala a volte, quindi però davanti mi trovo molto meglio. Sicuramente stare fuori da casa, lontano dai propri familiari e tutto aiuta a crescere come persona, poi a conoscere nuovi compagni è sempre una cosa positiva e questo ti aiuta anche in campo. Avere una società solida dietro ti aiuta a rendere anche meglio in campo, non avere pensieri e sicuramente l'anno scorso qualche cosa mentalmente abbiamo lasciato. Sicuramente a livello personale spero di fare molti più gol e molti più assist. Il terreno di gioco è stupendo, quindi anche con le mie caratteristiche spero comunque di rendere al meglio.